io come passeggero del giallo sono stato molto tranquillo ed è molto sicuro in una scala come la nostra che è anche un po' difficoltosa ma mi sono sempre trovato tranquillo e incoraggiavo anche mia moglie a scendere per le scala io dico se uno ha bisogno di giochi lo può prendere tranquillamente grazie Valentino grazie a voi